Tirocini e work experience finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Il Comune di Teramo istituisce una nuova misura per far fronte alle difficoltà economiche e sociali dei nuclei più fragili, esclusi dal reddito di cittadinanza e da altre forme di sostegno come la Naspi. Sono rivolte soprattutto a quelle categorie di persone come gli invalidi, come le persone inoccupate, disoccupate, le persone che stanno cercando di rientrare nel mondo del lavoro e che hanno un ISEE inferiore a 9.363 euro. È un'opportunità che viene data a tutte queste persone proprio per facilitare loro di riacquistare l'autonomia e di realizzarsi. Durerà sei mesi, verrà fatto all'interno degli uffici comunali. I beneficiari, selezionati tramite bando già disponibile sul sito web dell'ente, aperto fino al 18 settembre, al termine dell'avviso potrebbero essere circa 25. Saranno impegnati in varie attività negli uffici comunali, dall'accoglienza degli utenti fino al centralino o al supporto agli usceri. L'obiettivo finale è il reinserimento sociale e lavorativo delle persone coinvolte attraverso l'acquisizione di competenze e abilità trasversali. Questa azione in realtà va in continuità con quello che nei mesi scorsi abbiamo iniziato con i tirocini post reddito di cittadinanza. Questa attività abbiamo capito che è una buona pratica che il Comune ha messo in campo e che continueremo a farlo ampliando quindi anche a tutte quelle persone che non hanno il reddito di cittadinanza. Anzi, questo tirocino è proprio per quelle persone che non prendono il reddito di cittadinanza, che non prenderanno il nuovo assegno di inclusione e che non hanno la Naspi, non hanno la disoccupazione e che si trovano quindi sprovviste da qualsiasi tipo di sostegno economico da parte dello Stato. Grazie. Grazie.